Nella vita di ognuno di noi esiste un preciso momento in cui sentiamo una voce dentro che ci indica esattamente cosa fare. In fondo è proprio questo che aspettiamo nella vita, una motivazione per dare un senso ai nostri giorni. Così Arturo Mariani, giovane calciatore della Nazionale Italiana Amputati. Nato così è il suo diario, la storia di un giocatore nato senza una gamba. La cui tenacia però, la sua incrollabile fede, la sua speranza nel futuro, gli hanno fatto abbattere tutte le barriere che siamo noi troppo spesso che ci costruiamo. Nel libro Nato così racconta appunto tutta la mia storia, quindi da prima che nascessi, dai tre mesi che sulla gravidanza di mia madre alla prima geografia gli venne data questa notizia, a questo bambino doveva nascere senza una gamba. E da lì nasce un sì, un sì che ha dato vita a tante esperienze, a tante cose belle e anche difficoltà. E da quelle difficoltà puoi raggiungere quegli obiettivi, lanciare un messaggio positivo ai giovani, ai ragazzi di speranza di non abbattersi mai di fronte alle difficoltà e che anzi la sofferenza deve diventare un punto di forza dove partire per raggiungere quei sogni che ci prefissiamo. Arturo Mariani è stato ospite con la sua famiglia nell'Accademia del Calcio del settore giovanile dell'Aquila Calcio a Preturo. Ai giovani calciatori e a quelli della prima squadra Mancini e Ligorio, accompagnati dai mister Perroni e Grilli, ha raccontato la sua storia. Da prima che nascesse, da quando alla sua mamma dissero che il suo bambino non aveva una gamba. A quel sì pieno d'amore, fino ad arrivare ad oggi, dopo un percorso interiore doloroso a volte, ma sempre caratterizzato da tanta positività. Un inno alla vita, una dichiarazione d'amore alla vita, in piena regola, che il preparatore dei portieri delle giovanili, Mauro Lauri, ha fortemente voluto portare come testimonianza ai ragazzi dell'Aquila Calcio. Sì, in Nazionale sono entrato a far parte quando avevo 18 anni, ho abbandonato la protesi e ho iniziato a giocare con le stampelle a calcio. Ho scoperto che c'erano altri ragazzi come me in tutto il mondo. In Italia era nato da poco questa esperienza di calcio amputati. Si gioca con le stampelle ed è un sogno che si realizza. Ci abbiamo portato tanti altri ragazzi come me che amputati o senza una gamba dalla nascita a raggiungere questo obiettivo, questo sogno di giocare a pallone che ci ha portato fino in Messico, fino in Polonia e tante altre parti. Arturo del resto ci insegna che tutto è possibile, basta volerlo.